Quanto devi mangiare per avere una vita sana? La risposta è molto semplice, quando rutti vuol dire che hai mangiato a sufficienza. Molto semplice, il tuo corpo ti parla, ma ormai la società, le convinzioni, le credenze ti portano costantemente fuori rotta e ti portano a non ascoltare il tuo corpo. Gli arabi quando hanno finito di mangiare ruttano, dicono che ruttano perché hanno goduto del pasto. Anche il mondo ayurveda in India dice che quando rutti vuol dire che basta, è finita, il tuo corpo ti sta dando un segnale, ma le persone sono sempre più sconnesse. E quindi quando rutti non sei un porco, ma è un segnale del tuo corpo per dire basta non darmi più cibo. Impara ad ascoltare il tuo corpo, riprenditi il possesso del tuo corpo, impara ad ascoltarti e smetterla di credere a ciò che ti dicono.